Con la pandemia salgono a 121.000 i toscani in povertà, solo nell'ultimo anno sono stati 16.000 in più. I poveri in Toscana sono rappresentati soprattutto da giovani, il 55% a meno di 35 anni e dalle famiglie di immigrati e da quelle più numerose. I dati del rapporto sulle povertà stilato dalla regione e il dossier di Caritas sono stati presentati a Palazzo Strozzi Sacrati dall'assessore regionale alle politiche e sociali Serena Spinelli. Quello che si è registrato nel 2020 è stato un aumento contenuto dei nuovi poveri dovuto alle misure di sostegno messe in campo a livello nazionale e regionale che hanno tamponato l'emergenza sociale causata dalla pandemia. In prospettiva c'è da considerare però la fine degli interventi e per questo la regione sta lavorando per affrontare il 2021 attraverso la riprogrammazione delle misure economiche insieme alle risorse nazionali e il POR FSE 2021-2027. Il nostro impegno è anche un impegno dal punto di vista di organizzazione del sistema. Ci sembra sempre più necessaria una convergenza di azioni tra i diversi livelli istituzionali, una relazione costruita e strutturata insieme al terzo settore dal punto di vista sia di coprogrammazione che di coprogettazione in modo tale da coordinare e utilizzare le risorse in maniera efficace, in modo tale da non fare azioni che si sovrappongono l'una alle altre ma vanno ad intervenire sui diversi problemi che noi ci attendiamo possano essere evidenti. Per l'IRPET, l'Istituto di Ricerca della Regione Toscana c'è il rischio di un aumento esponenziale di nuovi poveri nel 2021. Il rischio è che lo sblocco dei licenziamenti, il venir meno agli ammortizzatori sociali, peggiori così tanto le condizioni del mercato del lavoro che ora è ancora ibernato e questo può provocare una crescita significativa dell'area della povertà. Grazie